E' la gentaglia di Shikoku, io sono Mango, scusate un attimo che sono in partita, ok, oggi insieme a Luke vi porteremo un video dove proviamo a dare le voci alle skin di Fortnite, speriamo vi piaccia, sono un attimo impegnato, scusate, ok, ecco qui, vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace e di scrivere nei commenti altre 10 skin di Fortnite di cui vorreste sentire la voce, detto ciò, buona visione. E' vero, è vero. Uguali, ok, vai, ok, voglio diventare un pirata, bene, lui mi sembra uno molto sportivo, quindi un ragazzo giovane, allora... Salve, io non ho molta dimestichezza... Vaffan... Ma, mi scusi, ma lei è veramente maleducato, ecco, volevo sapere, volevo dirle appunto che io ho dimestichezza soltanto con le palle da cannone. E allora grattatele. Ah, no, vorrei imparare ad usare anche le palle da cannone perché mi piacerebbe tantissimo diventare un pirata e quindi lei... Ok, Getto, vai subito giù a pulire il cannone con lo scovolino. Ma come pulire in realtà io... Sì! Credevo potessi sparare ai nemici e questo è quello che fa il pirata, no? Un paio di palle! Simpatico. Però... Comunque, ragazzi, ho dei capelli orribili. Parrucchiere, dove sei? Scusi, ogni youtuber che si ispetti ha un parrucchiere in casa. I parrucchiere sono per mammolette. Esiste la parola mammolette? Ok, ora io sono un soldato che fa la guerra da molti anni e tu sei uno che la guerra l'ha vista solo in fotografia e quelle fotografie della guerra le ha strappate. E hai un arcobaleno ovunque e hai un orsetto rosa sul maglione. Ehi tu, soldato, da che casata provieni? Vengo dalla casata arcobaleno. E che casata è? Che casata dal cas... XD, più che ecco. E che casata è? Beh, vedi, io vorrei tanto partecipare alla guerra, ma ho sempre visto soltanto foto. Non ho mai visto dal vivo come funziona una vera e propria guerra. Credo che sia tutte esplosioni rosa, colorate, piene di orsetti. È così? Conferma? Amico, tu non hai mai fatto neanche una settimana in guerra. Hai più passato tempo dal parrucchiere a farti... quei bigodini lì che sembrano fonzi, al posto di sparare con le armi, ok? Sì, è vero, questa acconciatura è veramente fantastica per un tipo come me. Però, insomma, credo che la guerra sia bellissima. Come puoi vedere sulla mia felpa, è proprio disegnata una scena di guerra. Sono tutti così contenti, così rosa. E quella ti sembra guerra. Ti piace la pistola? Mi piacciono ancora di più questi bei bigodini. Perché non te li fai anche tu, invece di tenerti quel calzino motion? Però ho una domanda, ho una domanda. Ma come fa a passarti il sangue con quella faccia lì sul braccio? Ho una domanda. Perché non ti fai il calzino motion? Benissimo! Ancuregi, Ancuregi. Qua bisogna invitare proprio Ancuregi. Siamo al confine. Cosa fa Ancuregi di solito? È misterioso. Ok, quindi... Quindi non si sa. Ehi, Spanico. Tu chi sei? Ma come sono messicano io, normale? È uno molto incazzato. Sì, sei uno a cui non piacciono le cose nascoste. Senti, a me non piacciono né le domande e né i tipi troppo misteriosi. Identifichi. Io non mi identificherò mai. Io sono il male, anche se su Instagram ho scritto che sotto una maschera non si nasconde nient'altro che qualcosa di buono. Piuttosto tu, guardati. Hai le sopracciglia più grandi delle mie tette. Vedi, io non posso sapere se le tue sopracciglia sono a meglio delle mie. Sai perché? È una maschera da imbecille. Se non hai niente da nascondere, levatela. Allora, no? Sai cosa mi levo io? La cintura. E ti prendo a cinghiati in faccia. Vedi quanto sono incazzato? Eh? Ho un sacco di armi nascoste nel mio camioncino. Non ti conviene avvicinarti a me. Bene. Sai cosa ho io sotto la bandana? No, non lo so se lo chiamo. Aspetta. Inventatelo, dai. A me viene in mezzo a scuola uno matto. Ma a me è uguale, è solo che... Aspetta che mi hanno diventiti. Ehi, amico, ma ti sei messo un cappello adesso rispetto a prima. Sì. Ho deciso di prendere ispirazione dal tipo di prima e voglio fare un po' il misterioso anch'io, sai? Sì, secondo me... Anche tu sei... Ma che cazzo? Ma secondo me sei sempre lo stesso, ma sei andato a pescare un cappello da pescatori. No, vi sopporto più, voi stupidi con questa tuttina mascherati. Ma chi vi chiedete di essere i Power Rangers? Ascoltami. Tutto ciò che è misterioso fa paura. E tutto ciò che fa paura è diverso da quella faccia brutta. Guarda che occhi che hai, sembri un pesce palla. A me non fai paura, a me fai soltanto pena. Perché se uno porta una maschera significa che ha qualcosa da nascondere e che quindi non è felice della propria vita. Mamma mia. Oh, guarda le due facce, sembrano fatte apposta. Il gelato sta malissimo ma non ha il coraggio. Cioè, per orgoglio non lo ammette. E quello dell'ambulanza io. E quello dell'ambulanza vuole curarlo per forza. Guardi, signor gelato, abbiamo fatto delle analisi e lei in realtà non risulta molto sano. Quindi le direi di venire con me, la porto al pronto soccorso. Che ne dice? No, vede, appunto questi segni dimostrano che lei non sta tanto bene di testa. Quindi le pregherei di seguirmi. Non riesco a capirla, mi dispiace. Se vuole salire sul camioncino, andiamo subito. Stia zitto, le faccio una siringa e la porto immediatamente al pronto soccorso. Lei va curata. E qui le faccio una siringa. Che brutte siringhe. Luke! Mamma mia, raga, questi qui sono... Che bello! Sono la sofferenza e la morte, la distruzione. Come si chiama il mio? Beh, abstract è più bello. Ha un nome. Sta andando a uccidere, perché lui è la morte in persona, è un medico della morte. Sta andando a uccidere il tizio sotto. Ma si accorge che non è un umano. Ehi tu, che sei? Quando uno fa una domanda, in genere è prima... Quindi chi è lei, casomai? Io sono Corvesperef. Un nome molto creativo. E che cosa vuole da me, scusi? Sono il medico della morte. Vado a dare l'estrema puntura a chi deve morire. Medico e molte non vanno molto d'accordo come parole. Ma lei vorrebbe fare una puntura a me? Perché, scusi? Beh, amico, se spiace che non capisco una mazza, ok? Eh, so, ho l'apparecchio di merda. E dove era in filo la puntura? Guardi. Non so risponderle, insomma. Guardi, faccia lei. Un faccia lei, dato, è uguale. Il Corvo... Tu sei matto, sei un pazzo pazzissimo. Sei proprio Junkrat. Sembra il personaggio di Jack and Dexter, non so se lo conoscete. Se lo conoscete, commentate dicendo Jack and Dexter. Se conoscete Junkrat, commentate con scritto Junkrat. Il Corvo me lo sento vicinissimo al microfono, tipo... Tipo così, ciao, manco. Salve, e lei chi è? Io sono... Il Corvo. Ah sì? Mi scusi, mi scusi, continui. L'ho interrotto, non volevo. Sì, sono il Corvo. Ah sì? Se è un Corvo, sa anche volare. Sì. I Corvi sa volare naturale. Ascoltami, tu che hai quella maschera strana in faccia. Sì. Lo sai per cosa sono famoso io? No, dimmelo. Anche se non mi interessa. Vai. Sono famoso per non laggare, a differenza tua. Beh, io porto sfiga, quindi avvicinati. No, se porti sfiga, va a tenere via, allontanati. Sei brutto. In questo momento Junk non mi sente commentato e scrivendo Junk Puzzi di Pecorino. Mi raccomando, mi raccomando. Hai presente quell'omicidio che hanno fatto l'altro giorno al campo da basket, vero? No, io non ho sentito parlare. Di cosa si tratta? Amico, non prendermi in giro. Sappiamo tutti che è morta Lindsay. La figlia del collega dell'amico di mio marito. Che cadi di... Di mia moglie. Sai, io conoscevo Lindsay, si chiamava, mi pare. Era davvero una brava ragazza. Però... Non sapevo fosse morta, no? No. In genere quando gioco sono molto preso, quindi non... Non do importanza a quello che succede intorno. Ascoltami, ho un distintivo. Sì. Sappi che... E tu dov'eri l'altra sera? Alle nove. Anch'io ho un distintivo, aspettami un attimo. Devo fare una cosa, aspetta. Arrivo subito, ok. Non mi spaventi con quel distintivo, perché anch'io ne ho uno, sai? Hai comprato un mango. È un mango? Ma no, non so perché, lo sono ritrovato a casa. Boh, è venuto... A trovarmi, così, boh. Eeeeee... La skin che odio di più, fa schifo. Ah, sei un robot. Tra l'altro sei un robot. Amico, forza, vieni, tieni qui. Vieni qui in pizzeria, che ti offro una bella pizza. Vieni. Oh, arrivo, arrivo. Ciao, signor Pomodoro. E visto chi sono io, sono una skin bruttissima, disegnata da un bambino di 5 anni. Ti piaccio? Oh, amico mio, sei bellissimo, ma... Ma dove hai la bocca? Ce l'hai disegnata e basta. Non è un'apertura, quella. Esatto, e vorrei sapere anche dove ho il culo, perché se vedi sono zonzo di merda in testa. Ma sei pieno di ruggine, vabbè. Io so sporco di Pomodoro, però... Vieni dentro, vieni, vieni. Che pizza vuoi? Vai, arrivo. Allora, la pizza non posso mangiarla, perché, come hai detto tu, la bocca è disegnata. Quindi, in realtà, i robot non mandano niente. Però, se vuoi, ti aiuto a prepararla. Sai che ti dico? Ti offro io una cosa. Sta salsiccia! Mango, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Allora, io vi ricordo che il tutto più buono del mondo è il mango. Assolutamente. E già che siamo qui, ho capito cosa vuole che faccia. Vi dico di lasciare like a questo video. Iscrivervi al canale. Attivare la campanellina. Seguirci su Instagram. Sia a lui. E poi, se vi va, anche a me. Ci sono tutti i link in descrizione. Iscrivetevi ai canali. E vi mando un bacino. Luke è lì. Ciao Luke. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video. Uh! Urca! Ciao a tutti